Compassione, professionalità e garanzia di qualità. L'apicoltura Luca Finocchio da diverse generazioni si distingue per la qualità del miele prodotto e da circa 10 anni riceve puntualmente i massimi riconoscimenti del settore a livello nazionale. L'apicoltura Luca Finocchio è anche fattoria didattica ed offre al consumatore una vasta gamma di prodotti. Vi aspetta presso il punto vendita di Tornareccio in Viale Santo Stefano 14 e online su www.apicolturalucafinocchio.it